Buongiorno a tutti, siamo ben attrezzati per nuove azioni oggi. E quello che stiamo facendo, quello che facciamo in fondo è, non è altro che superare paure. Quindi quando qualcuno ha un problema, cioè dietro agisce una paura, cioè la paura che succede a cosa, anche la paura nei confronti di una malattia, come sempre, e qualunque essa sia. E dietro questa paura, così abbiamo l'immaginazione, è come se noi stessi fossimo costretti a prendere qualcosa in mano. E come se tutto quanto dipendesse dal nostro agire. Beh, immaginiamoci, ad esempio, quando intraprendo un viaggio. Setzo ich mich in einen Zug, mi metto in un treno, E questo poi incomincia a camminare da solo. Oder dass ich mir Ängste machen muss. Senza che io debba avere alcuna Preoccupazione. Jemand anderem, anderem, ja? Der macht sich die Sorge, dass es gut geht. Beh, è qualcun altro, no? A qualcun altro è affidato la Preoccupazione che tutto funzioni bene. Und so können wir unser Leben führen, auf gewisse Weise, ja? E in questo modo possiamo condurre, in un certo qual modo, la nostra vita. Macht mal die Augen zu. Chiudete gli occhi. Und wir schauen jetzt auf unsere Ängste. E adesso osserviamo le nostre paure. Was geschieht mit uns, wenn wir auf diese Ängste schauen? E che cosa ne è di noi, quando guardiamo queste paure? Bleiben wir stehen. Rimaniamo fermi. Wie gelähmt. Come paralizzati. Warten wir vielleicht darauf. Forse restiamo in attesa. Dass etwas passiert. In attesa che succeda qualcosa. Was geschieht dann mit uns? Und che cosa succede con noi, in questo caso? Noi smettiamo di dare. Di vivere. Smettiamo di vivere. Alla angst ist lebensangst. Ogni paura è paura di vivere. Angst um unser Leben. Paura per la nostra vita. Auch die angst um das Leben eines anderen Menschen. Anche la paura della vita di un'altra persona. Doch mit dieser Angst hört das Leben auf. Con questa paura la vita cessa. Denn alles Leben ist gewagt. Perché ogni vita è osata. Und dann schauen wir auf diese Angst. E noi guardiamo, osserviamo questa paura. Und gehen auf sie zu. E l'avviciniamo. Schauen ihr in die Augen. Guardiamo nei suoi occhi. Und warten. E attendiamo. Und dann spricht die Angst zu uns. E poi la paura ci parla. Und was sagt uns diese Angst? E che cosa ci dice questa paura? Tu was. Fai qualcosa. Jetzt. Ora. Und in dem Augenblick stellt sich die Angst hinter uns. Und schiebt uns nach vorne. Und ci spinge in avanti. Sie wird zu einer Kraft hinter uns. Diventa una forza dietro di noi. Und vor uns ist der Weg frei. Und davanti a noi la strada è libera. Und noch etwas erfahren wir dann für uns. Und qualcos'altro impariamo per noi. In dem Augenblick leben wir ganz in questo momento noi viviamo interamente und zur gleichen Zeit vertrauen wir anderen Kräften e e allo stesso momento facciamo affidamento ad altre forze von denen unser Leben kommt da cui la nostra vita proviene und zu denen es sich hinbewegt e verso cui la nostra vita si muove selbst über dieses Leben hinaus. Addirittura oltre questa vita stessa. Dann leben wir mit hingabe an diese größere Kraft. E così viviamo con dedizione a questa forza maggiore. Wie come gelassen rilassati zuversichtlich affidabili voll in unserer Kraft pienamente nella nostra forza. po a be h or o re o Grazie.